Grazie per avermi invitato a condurre questo webinar in cui parlerò dei moderni approcci al trattamento della sordità. Chiaramente è sempre un po' complesso dare un taglio che sia esaustivo da un punto di vista dell'informazione senza andare troppo nel complesso. Noi in genere abbiamo questa forma mentis delle occasioni congressuali, delle tavole rotonde, degli incontri scientifici per cui tradurre poi tutte queste informazioni in termini divulgativi su patologie rare non è che sia la cosa più semplice. Pertanto spero di aver trovato la giusta posizione intermedia tra il taglio divulgativo senza banalizzare troppo gli argomenti. Intanto vorrei subito fare un piccolo richiamo di alcune nozioni relative all'orecchio, che è l'organo di cui ci interessiamo oggi durante questa chiacchierata. In questa bella immagine, in questo bel ritratto di Antonello da Messina, vedete, è stata ricavata l'immagine delle delicatissime strutture dell'orecchio per dare un'idea di dove si trovino e di quanto profonde, racchiuse, protette, diciamo così, all'interno di quell'osso, vedete, di queste strutture spugnose che sono strutture osse e si trovino queste strutture delicatissime. Quindi va molto bene al di là di quello che noi immaginiamo semplicemente guardando l'orecchio esterno di una persona. vedete che ci sono le classiche suddivisioni, no? La E sta per la parte esterna dell'orecchio, la M è l'orecchio medio e la I è l'orecchio interno, che è quello che poi probabilmente maggiormente ci interessa. Qui vediamo in termini più semplici una classica immagine in cui vediamo queste strutture, il padiglione auricolare, il condotto uditivo che è chiuso dalla membrana del timpano. Questo spazio che si chiama cassa timpanica in cui sono sospesi gli ossicini, il martello, l'incudine, la staffa, questa catena ossicolare che ha lo scopo di trasmettere alla zona nobile rappresentata dall'orecchio interno i segnali acustici. Ecco, nell'orecchio interno, andando con dei potentissimi microscopi a scansione, noi poi avremo a che fare con queste strutture. Cioè quella che abbiamo visto in precedenza, quella struttura a forma di chiocciola, la cosiddetta coclea, ecco è fatta di tanti tunnel, di tante rampe, a volte ad elica, ma le cose che più ci interessa sono questi affarini piccolini che vediamo qui, che vediamo maggiormente ingranditi qui sulla destra, dove ci sono le cosiddette cellule ciliate, cellule ciliate esterne e le interne, che rappresentano il cuore, il punto nevralgico poi dell'orecchio, cioè il cosiddetto organo del corti. È un po' l'equivalente, tanto per avere un termine di paragone con un altro organo, cioè l'occhio, è un po' come se stessimo parlando, quando parliamo di queste strutture, come se stessimo parlando della retina. Ecco, qui abbiamo ancora una rappresentazione schematica di queste cellule, cellule ciliate interne, le cellule ciliate esterne, vediamo questi fili, questi piccoli fili colorati che raggiungono queste cellule che poi nel loro insieme costituiranno il nervo acustico. Il nervo acustico è poi quel fascio di fibre che trasportano i segnali che a questo punto non sono più segnali acustici, ma segnali elettrici, sono piccole scariche brevissime, rapidissime elettriche che il nervo poi conduce al cervello dove avvengono poi tutti i fenomeni di percezione, di elaborazione dei suoni. Ecco quindi che se andiamo ad avere una visione un pochino più complessiva, sì c'è l'orecchio, c'è l'orecchio esterno, l'orecchio medio, la coclea, i nervi acustici, i nervi acustici che però vedete poi proiettano, conducono questi segnali al cervello, in particolare alle aree uditive primarie e secondarie della corteccia uditiva, sia da un lato che dall'altro. Quindi ad esempio l'orecchio di destra, ecco, condurrà dei segnali sia sulla parte, sull'emisfero destro del cervello, sia sull'emisfero sinistro. La stessa cosa farà all'orecchio sinistro, conducendo sia sull'emisfero dello stesso lato che sul lato contrario. Ecco, è molto importante tenere in considerazione che l'udito non è solo orecchio, ma è anche, in termini moderni direi soprattutto, ecco. Come funziona quantomeno la parte esterna, la parte periferica dell'orecchio normale? Beh, diciamo è molto semplice, possiamo dare un'occhiatina a questa animazione, vedete i suoni che raggiungono il padiglione auricolare e vengono convogliati nel condotto uditivo, ciò mette in vibrazione la membrana timpanica e la catena degli ossicini, gli impulsi raggiungono la coclea, nella coclea vengono trasformati in segnali elettrici, guardiamo ancora una volta, i segnali elettrici poi vengono trasportati dal nervo, come vediamo qui nel cervello, per le elaborazioni assolutamente indispensabili. Quindi, se vogliamo, l'insieme dell'orecchio, ma soprattutto l'orecchio interno, possiamo assimilarlo ad un'antenna che trasforma le onde, in questo caso sono onde acustiche, in segnali che poi devono essere decifrati, decrittati in qualche maniera, da uno schermo televisivo, piuttosto che da un'altra strumentazione che raccoglie il segnale. Ma parliamo adesso della sordità. Ecco, la sordità, ipoacusia è il termine più appropriato, naturalmente, però sordità è più immediato, se vogliamo. Nell'adulto, quantomeno, vedete, è tutt'altro che una patologia rara. Infatti, se guardiamo un pochino questo grafico, questi sono dati epidemiologici un po' datati, però è di fatto l'unico studio epidemiologico di un certo rilievo che abbiamo in Italia, ma vedete, non si sono spostate di molto però le percentuali. Vedete, il 18% della popolazione adulta ha una qualche forma di deficit uditivo. Se proviamo a guardare le forme lievi, leggere, che sono in questa colonna qui, vedete come a seconda delle fasce di età, quindi sotto i vent'anni, da 20 a 29, da 30 a 39 e così via, vedete come crescano esponenzialmente con l'età. D'altra parte è un concetto oramai risaputo che nell'anziano delle disfunzioni uditive, sebbene lievi o comunque modeste, siano estremamente comuni. Ecco, questo è uno dei motivi per cui, per esempio, i nostri genitori, i nostri nonni, dopo una certa età cominciano a ricevere le letterine dagli audioprotesisti, le letterine in cui vengono pubblicizzate le soluzioni per l'udito, perché, vedete, vanno a colpo sicuro semplicemente guardando i dati anagrafici, perché sanno benissimo che dopo i 70 anni il 61% della popolazione ha una forma, ancorché lieve, di deficit uditivo. Però se andiamo a guardare i danni uditivi più seri, più rilevanti, quelli che impattano davvero sulla qualità di vita delle persone, vedete che cominciamo ad avere delle percentuali un pochino diverse. Per esempio, sopra i 70 decibel, quindi siamo nel campo delle ipoacusie severe o gravi, oppure sopra i 90, che sono le sordità profonde, cioè quelle davvero più drammatiche, vedete, sono 0,4% oppure 0,04%, vale a dire 4 per 1000 e 4 su 10.000, quindi cominciano a essere un po' più rare queste forme. Ora, l'aspetto importante della relazione di oggi è che questa rarità è riferita alla popolazione generale, però vedremo in particolare in alcune malattie rare di per sé, possono essere presenti queste forme, che pertanto diventa necessario conoscere un po' più da vicino quali sono i risvolti e le problematiche di un deficit uditivo anche nell'ambito delle patologie rare. In queste immagini molto semplici si vede il perché l'ipoacusia, la sordità, possa essere un problema. Questa specie di amaca, qualcuno la chiama speech banana, cioè è la rappresentazione su modulo audiometrico, delle frequenze, dell'intensità in cui si può scomporre una voce umana di conversazione. Ecco, la vedete qui, questa specie di fascia curva coricata e invece queste linee gialle che vedete, con questi simbolini, rappresentano per esempio l'esame audiometrico di una persona, in questo caso di una persona che ha un modesto abbassamento uditivo sulla parte destra del grafico, cioè sulle alte frequenze. Il soggetto normale avrebbe tutti questi simbolini lungo una linea qua in alto, all'incirca dove sto muovendo la freccia, cioè intorno allo zero, intorno al 10. Bene, è intuitivo che la persona che ha questo mod, questo tracciato audiometrico, non sentirà queste componenti del parlato, cioè le alte frequenze. Quindi avrà un disturbo uditivo, non sarà totale, ma sarà comunque significativo e se ne accorgerà soprattutto quando l'interlocutore non è vicino, oppure quando ci sono più interlocutori che parlano insieme, oppure quando c'è un ambiente per esempio molto rumoroso, molto disturbato. Quindi un soggetto che abbia questa curva audiometrica avrà una prestazione uditiva abbastanza ragionevole, abbastanza buona, in condizioni ottimali di silenzio, di interlocutore magari familiare, vicino, ma avrà dei problemi nelle situazioni opposte. Diversa è la situazione per questa sordità, questa per esempio è una sordità profonda, questa è una sordità di medio grado, sordità profonda, vedete l'udito, la soglia uditiva è qui per cui tutto ciò che fa parte dello spettro acustico del parlato è completamente oscurato, non è percepito. Quindi il soggetto avrà un totale o quasi totale isolamento dal punto di vista della comunicazione verbale. È chiaro che i segnali acustici non sono quelli verbali, però per esempio il soggetto a sinistra potrà avere ancora una buona percezione della musica, dei segnali dell'ambiente, eccetera, però la percezione della parola risulterà già parzialmente compromessa. Ora, una classica distinzione quando noi parliamo di sordità o di ipoacusie è quella di fare una separazione netta fra quelle che chiamiamo ipoacusie trasmissive, che però purtroppo, purtroppo perché sono quelle teoricamente un pochino più facili da approcciare, rappresentano non più del 20% delle ipoacusie significative, cioè di quelle di media identità o medio gravi. Le ipoacusie trasmissive derivano da malattie dell'orecchio medio o esterno, cioè di quel sistema che abbiamo chiamato di trasmissione dei suoni, dove avvengono solo fenomeni meccanici, dove c'è insomma solo qualcosa che vibra e non c'è, come abbiamo visto invece nella coclea, la trasformazione di questi segnali in segnali elettrici che risulta essere un qualcosa di più complesso anche da correggere. E questa ad esempio è una membrana timpanica normale, vediamo qui, questo è il profilo di attacco della membrana al fondo del condotto uditivo, questo è il manico del martello, in trasparenza si intravedono altre strutture, l'area della finestra rotonda. Ecco, vedete questo colorito, questi riflessi, questo color madreperla, possiamo dire, solitamente assolutamente normale. Invece, qui per esempio vedete che questa membrana timpanica, guardiamo l'attacco periferico, il manico del martello, ma qui vediamo che c'è una grande perforazione. Ecco, questo per esempio è un classico caso di esiti, di otite croniche, il classico timpano perforato. Questo invece il timpano non è perforato, però vedete che ha tutte queste concrezioni biancastre. Ecco, questo per esempio è un caso di timpano sclerosi, in cui delle calcificazioni si sviluppano a seguito di infezioni ricorrenti e quindi bloccano, irrigidiscono il sistema di trasmissione dei suoni. Qui invece vediamo una membrana che è normale, e lo è, ma in trasparenza noi non vediamo le classiche strutture, vediamo un qualcosa che ha un color ambra. Ecco, questo è per esempio un'effusione sieromucosa, una classica forma di otite catarrale cronica, che fa sì che questo fluido, questo catarro intrappolato nella cassa del timpano non faccia vibrare bene il timpano e le strutture ossiculari. Ecco, queste forme le possiamo trattare ad esempio mettendo dei tubicini per far fuoriuscire queste secrezioni e far arieggiare adeguatamente la cassa timpanica. Questo per esempio è un caso di atelettasia. La membrana timpanica teoricamente ci sarebbe ancora, è molto sottile, è completamente risucchiata all'interno della cassa del timpano perché c'è un problema nella ventilazione di questa cassa timpanica e questo fa sì che sia come una sorta di lenzuolo, quando mettiamo il lenzuolo sui mobili, sul divano, su una sedia, che drappeggi tutte le strutture dell'orecchio medio. Ecco, queste strutture che vediamo qui che sono l'estremo dell'incudine, il capitello della staffa, il promontorio, la finestra rotonda, questo è il manico del martello, sono visibili semplicemente perché la membrana è risucchiata come una busta sottovuoto all'interno della cassa del timpano. E questa è un'altra situazione molto insidiosa in cui c'è questa strana crosta che copre quest'area, ecco questo nasconde quello che noi chiamiamo il colesteatoma. Il colesteatoma è una sorta di piccola cisti epidermica che ahimè si accresce qui dentro le strutture osse procedendo in maniera ingravescente nel corso degli anni e distruggendo tutte le strutture nobili che si trovano nell'orecchio medio e interno. Quindi come avete capito molte di queste situazioni si correggono con la chirurgia e fortunatamente nella stragrande o comunque in una buona parte dei casi si ottengono degli ottimi risultati. Questo ad esempio è la sostituzione della staffa con questo pistoncino per trasmettere i suoni nella parte interna dell'orecchio, un intervento che si esegue in anestesia locale di grande efficacia nei casi di otosclerosi. L'otosclerosi non è una malattia rara però è una malattia diciamo genetica che comporta il blocco della staffa e quindi noi per ovviare a questo problema sostituiamo la staffa con questo pistoncino recuperando in maniera molto brillante l'udito. Nei casi in cui la chirurgia non possa risolvere in maniera efficace le situazioni come in questo uno dei tanti casi di atresia auris ecco questa è una patologia relativamente rara ecco allora possiamo ovviare con dei dispositivi semi impiantabili che possono per esempio come nel caso di questo vibratore a massa flottante essere inseriti essere appoggiati sulle strutture ossiculari residue dopo un accesso chirurgico che avviene qui dietro all'orecchio oppure possiamo andare a posizionare dei perni che si avvitano all'osso e su questi perni poi sarà posizionato incastrato un piccolo vibratore per sfruttare la conduzione dell'osso per far giungere alla coppia i segnali attraverso una via alternativa a quella degli ossicidi che qui sono gravemente malformati insieme all'orecchio medio ed esterno. Ma ecco il punto principale le cose che ci interessano maggiormente oggi per la discussione odierna sono in realtà le altre sordità cioè quelle legate ad un danno all'orecchio interno compresa la cosiddetta neuropatia uditiva che è una patologia una malattia che colpisce il nervo acustico e la cellula ciliata interna rispetto alla quale costituisce una sorta di unità funzionale quindi le ipoacusie neurosensoriali. Quindi abbiamo due grandi categorie ipoacusie trasmissive che sono fortunatamente meno gravi e in molti casi risolvibili con approcci chirurgici parlo naturalmente delle forme stabili permanenti bilaterali significative. Dall'altra parte invece abbiamo le ipoacusie neurosensoriali. Le ipoacusie neurosensoriali andiamo a dare un'occhiatina ancora a quelle cellule che abbiamo visto nella coclea, le cellule ciliate. Qui vediamo sempre con i microscopi a scansione dall'alto queste strutture e contenete presente che ognuna di queste cellule ha la dimensione di un globulo del sangue. Ecco quindi capite bene che noi non possiamo andare ad operare queste cellule e quindi una volta danneggiate queste cellule tra l'altro. Allora non sono rigenerate dall'organismo, queste sono le cellule ciliate dell'organo del corti in una coclea normale, qui le vediamo di lato in 3D, qui le vediamo come una sorta di panoramica dall'alto come se fossero riprese da un drone. Ecco queste cellule una volta danneggiate purtroppo non sono rigenerabili. Noi riusciamo, il corpo umano riesce a rigenerare molto bene le cellule del sangue, della pelle, dell'osso, ma non le cellule di derivazione nervosa come queste. Ecco quindi che se c'è un danno, per esempio qui vediamo che questa fila di cellule ciliate esterne manca, e beh questo darà luogo ad una ipoacusia neurosensoriale, quindi non trasmissiva, cioè approcciabile chirurgicamente, ma ahimè irreversibile, permanente, fortunatamente di entità lieve media, perché lieve medio è il danno. Ecco anche qui la perdita totale delle cellule ciliate, vedete come se qualcuno avesse falciato tutte le ciglia di queste cellule, rimangono solo la fila delle interne, che sono queste. Ecco anche con la perdita completa delle cellule ciliate interne, si ha un'ipoacusia medio grave, ma non una ipoacusia completa. Allora come si gestiscono queste forme? Come si gestiscono le ipoacusie neurosensoriali, diciamo di entità lieve, di entità media, medio grave, quelle non profonde, quelle non complete? Beh, qui si gestiscono in maniera molto semplice, con gli apparecchi acustici e con la cosiddetta amplificazione acustica. Ora voi mi direte, ma cosa c'entra qui questo David Bilmore, che è appassionato di musica, riconosce benissimo il grande chitarrista dei Pink Floyd, quando era ragazzo naturalmente. ecco, non c'entra niente, a parte che io sono appassionato un po' della musica dei Pink Floyd, ma è solo per farvi vedere che cos'è l'amplificazione. L'amplificazione è alla fine e non è altro che quello che vedete qui, cioè un microfono, degli amplificatori, delle grandi casse acustiche, e tutto questo è raggruppato in quello che è un classico apparecchio acustico. Ecco, in un apparecchio acustico ci sono tutte quelle componenti che abbiamo visto prima nell'immagine, nella fotografia dei Pink Floyd, di David Bilmore. Quindi ci sarà un microfono che sarà naturalmente miniaturizzato, c'è un sistema di amplificazione che viene gestito da questi circuiti, da questi microchip, ci sarà un altoparlante che è miniaturizzato qui e ci sarà una sorgente di energia, perché tutte queste strumentazioni sono strumentazioni elettriche che richiedono naturalmente energia elettrica per poter funzionare. Questa energia elettrica è fornita da una batteria, in genere le batterie negli apparecchi acustici si trovano nella porzione inferiore in un vano apposito. Ma gli apparecchi acustici però hanno subito, diciamo, delle evoluzioni veramente importanti. Vedete qui ci sono i primi cornetti acustici che venivano utilizzati nel 1700, nel 1850, nel 1887. Solo negli anni 30 del secolo scorso compagnano i primi apparecchi elettrici, elettronici, con circuiti primordiali. Guardate quanti erano grandi questi apparecchi, chiamiamoli ancora così. Negli anni 90 invece sono perfezionati nelle forme elettroauricolari ed oggi sono davvero delle cose molto molto sofisticate. Ecco io a volte quando faccio così qualche chiacchierata scientifico divulgativa sugli apparecchi acustici dico sempre che la differenza che c'è fra gli apparecchi di oggi e quelli ecco degli anni 90, quelli che avrete visto anni fa sui nostri nonni, sui nostri conoscenti o su persone magari anche giovani che erano diciamo molto voluminosi di questo genere. Adesso sono apparecchi di questo genere. A parte le dimensioni però diciamo che la tecnologia digitale ha consentito a questi apparecchi di essere anche qualcosa di più di semplici apparecchi. C'è un po' la stessa differenza tra gli apparecchi acustici di oggi e quelli di 20 anni fa, 30 anni fa, la stessa differenza che c'è fra questo aggeggio che vedete qui che tutti voi avrete in tasca o vicino in questo momento, cioè lo smartphone e i telefoni di un tempo. Cioè questo non è più solo un telefono, lo sapete molto bene, qualcosa con cui ordinare una pizza, fare acquisti, andare in banca eccetera eccetera eccetera. E infatti oggi gli apparecchi, vedete molti hanno una ricarica diretta, cioè non hanno più delle pile da cambiare ogni santo giorno, possono ricevere, hanno delle connessioni wireless incredibili per cui si può ricevere direttamente la chiamata da uno smartphone, possono ricevere messaggi, audio messaggi di notifica, si possono gestire le regolazioni dell'apparecchio direttamente dallo smartphone, vedete qui ci sono quasi tutti gli apparecchi moderni, si può regolare il volume, la tonalità, i filtri attraverso un diciamo uno smartphone, si possono regolare a distanza, c'è questa connettività bluetooth diversale, programmi multipli, addirittura alcuni possono anche fare una sorta di traduzione simultanea, quindi se parliamo con una persona di lingua inglese ci possono addirittura fare una traduzione in inglese che sarà più o meno poi appropriata, ma comunque possono fare anche questo. Hanno sistemi di intelligenza artificiale eccetera eccetera, quindi vedete tutte queste caratteristiche, un po' sono come gli smartphone di ultima generazione, d'altronde ne condividono spesso la tecnologia, i microchip e la potenza di calcolo dei microchip attuali. Da un punto di vista grossolano gli apparecchi acustici li avrete visti, ci sono quelli retroauricolari, qui vediamo un tipo di apparecchio ancora convenzionale ad altissima potenza che è ancora una specie di piccolo tubo, comunque un apparecchio retroauricolare, ma ci sono anche quelli intraauricolari che sono utilizzati soprattutto negli adulti, ma possono essere utilizzati anche nel caso dell'applicazione pediatrica. Ecco nel caso degli apparecchi intraauricolari la miniaturizzazione è ancora più spinta, ma le funzioni di base sono praticamente sovrapponibili a quelle degli apparecchi retroauricolari. L'apparecchio acustico che cosa fa? Abbiamo detto amplifica, quindi non fa altro che amplificare, rendere più udibile per così dire, l'onda sonora incidente in maniera che il sistema residuale uditivo, anche se ammalato, possa trarre beneficio da questa amplificazione. In pratica ecco vediamo qui arriva l'onda sonora, qui c'è l'amplificazione, vedete come vibrano di più e poi quello che succede a valle è sempre il solito processo che abbiamo visto con l'orecchio normale. Ma che cosa succede però quando noi abbiamo tutto tabula rasa, quando non c'è più né la cellula ciliata esterna né la cellula ciliata interna? Cioè quando abbiamo un deserto dei tartari come quello che vediamo qui in questa slide. E beh qui vedete c'è solo forse ci sono le ciglia forse di un'unica fila di cellule ciliate interne. Beh qui siamo nell'ambito delle sordità profonde della ipoacusia neurosensoriale profonda. Beh qui applicare un apparecchio acustico capite da voi che non avrebbe alcun senso perché io posso anche amplificare ma non ho non incontro strutture in grado poi di tradurre questo segnale amplificato in segnale elettrico trasmissibile dal nervo. Quindi non diciamo sì posso percepire qualche cosa di grossolano ma non quello che servirebbe in situazioni di questo genere. E danni totali di questo genere che possono essere causati da tantissime cose ma hanno un rilievo particolare proprio patologie genetiche e patologie soprattutto nel caso dei bambini e patologie genetiche rare. Qui ne vediamo alcune per esempio disfunzioni melanocitarie, anomalie di questo gene che si chiama DFNA9, anomalie di questa proteina, la sindrome di Asher, la sindrome di Wardenburg, l'azione del carboplatino ecco questo è un farmaco antineoplastico che può danneggiare le cellule ciliate, queste altre sortità sindromiche poi vedremo un pochino come come classificarle. Ecco queste sono fra le cause principali di questi danni davvero drammatici totali che ci possono essere all'interno della coclea. C'è questa interessa forse ci può interessare maggiormente a proposito delle patologie mitocondriali un quadro nuovo che da soli pochi anni in fondo abbiamo imparato a conoscere che è quello della cosiddetta neuropatia uditiva quindi la ipoacusia neurosensoriale da neuropatia uditiva. Ecco nella neuropatia uditiva la cosa curiosa è che anche se l'ipoacusia misurata con l'audiometria così come abbiamo visto all'inizio non fosse gravissima beh però c'è una severissima compromissione della percezione verbale quindi indipendentemente da quello che vediamo sull'audiogramma queste forme questa patologia si comportano come una sordità completa come una sordità profonda. Vedete quello che dicevo prima questa unità funzionale fra la cellula ciliata interna e le fibre del nervo acustico. Cellula ciliata interna e fibre del nervo acustico sono considerate oggi un tutt'uno ed ecco che quindi danni alla cellula ciliata interna danni al nervo ma soprattutto danni nella zona di congiunzione tra la cellula e queste terminazioni quelle che in termini medici si chiamano sinapsi cioè le sinapsi sono quegli spazi in cui le terminazioni si appiccicano alla cellula non sono la stessa struttura quindi se guardiamo qui fra il verde e il rosso c'è un piccolo spazietto che qui si vede ingrandito ecco questo spazietto si chiama sinapsi la sinapsi è importantissima perché l'eccitazione causata dal suono della cellula ciliata interna si deve trasferire alla fibra nervosa e per trasferirsi che come avviene questa questa questo trasferimento attraverso la liberazione di agenti chimici questi agenti chimici poi trasformano diciamo si ripercuotono sulla sulla fibra diciamo vengono letti e lo stimolo quindi poi si viene rigenerato sulla fibra e si propaga attraverso la fibra quindi è un punto di scambio di messaggi e le sostanze chimiche che vengono rilasciate nella sinapsi si chiamano neuromediatori nel caso dell'udito il neuromediatore principale è il glutammato ecco è questo meccanismo di fuoriuscita di glutammato dalla cellula ciliata che poi andrà a legarsi sui recettori della fibra per trasferire l'impulso ecco è regolato da una degranulazione di queste vescicole vedete queste vescicole arrivano rilasciano il glutammato ritornano indietro e rifanno il giro intorno vedete c'è questa questa sinapsia nastro meravigliosa immaginatevela come una specie di ruota panoramica delle giostre che gira in continuazione quando queste vescicole arrivano qui liberano il glutammato e dall'altra parte dove c'è la fibra nervosa parte il segnale ecco alterazioni che possono coinvolgere questo meccanismo questo meccanismo che è regolato dal calcio e in particolare per esempio l'otoferlina è una delle proteine che hanno il maggior ruolo bene delle anomalie che disturbano anche banalmente questa questa proteina inceppano questo meccanismo e quindi fanno sì che sebbene le cellule siano ancora lì sebbene le fibre nervose siano ancora lì il giochino non funzioni ecco il concetto di neuropatia questo caso una neuropatia presinaptica perché il danno si realizza qui ma ci sono anche le forme post sinaptiche quindi non non c'è un danno cellulare vero e proprio con morte delle cellule ma l'effetto è lo stesso ecco il concetto di neuropatia che è molto molto comune soprattutto nelle patologie mitocondriali anche in altri distretti a prescindere dalla neuropatia uditiva le neuropatie ottiche e così via allora queste neuropatie uditive hanno quasi sempre un substrato genetico non solamente genetico perché per esempio anche il danno causato dal rumore alle strutture dell'orecchio interno sembra riconoscere un meccanismo neuropatico di questo tipo ma la neuropatia uditiva generalmente è genetica sono malattie molto rare e possono essere come dicevamo pre o post sinaptiche proviamo a guardare questo schema per un momento io qui prenderò a prendere proverò a prendere un abbiro per enfatizzare meglio le cose vedete questa è la nostra cellula ciliata interna queste qui questi granulini sono le nostre diciamo le nostre sinapsi a nastro che liberano il neuromediatore che sono questi puntini qui c'è la fibra nervosa sono meccanismi rapidissimi richiedono millesimi di secondo e vedete gli impulsi vanno vengono trasferiti normalmente alle fibre del nervo con altissima sincronizzazione con altissima velocità se però io ho un disturbo abbiamo visto prima per esempio l'otoferlina no quella proteina ma ce ne sono anche altre la diaframmina ce ne sono altre ecco se c'è un disturbo di questo meccanismo di degranulazione insomma se si inceppa la ruota panoramica delle giostre vedete arriva meno segnale arriva con discontinuità nel tempo e quindi vedete il nervo ci sono due stimoli qui ce ne sono altre due si verifica una desincronizzazione dell'impulso nervoso ci sono poi anche quelle post sinaptiche in cui ci può essere un danno diretto alle fibre ci può essere un'alterazione della trasmissione in genere si tratta sempre di meccanismi di proteine che regolano in qualche modo la generazione degli impulsi nervosi nelle fibre oppure nei corpi cellulari del neurone vedete qui una serie di geni le cui mutazioni sono sono state associate ad una neuropatia uditiva segnalo per esempio questo che è una mutazione che determina anche un'atrofia ottica opa sta per optica atropi e che dà molto spesso anche una neuropatia uditiva con una sordità davvero molto grave ecco allora in questi casi cioè laddove siamo in presenza di una severa neuropatia uditiva o di quel danno totale delle cellule ciliate interne o esterne bene abbiamo visto che l'apparecchio acustico non 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 crea nessuna sensazione uditiva quantomeno utile utile per percepire la parola e allora ecco l'impianto cocleare questa è un'immagine storica di uno dei primi impianti che furono prodotti negli anni 80 e l'impianto cocleare fa una cosa diversa ossia non l'obiettivo di andare qui sulle nostre cellule non ce l'abbiamo più questi che vedete qui sono dei degli elettrodi e quindi questo nel suo complesso è un multi elettrodo e ognuno di questi contatti elettrodici ognuno di questi elettrodi libera piccoli segnali elettrici questi segnali elettrici vanno a stimolare le cellule nervose che si trovano qui nel modiolo della chiocciola cioè in quest'area qui dove vedete ci sono tutte le fibre acustiche i corpi cellulari delle fibre acustiche quindi anche se noi non abbiamo più le cellule qui anche se abbiamo un problema presinaptico postinaptico abbiamo però un bel volume di cellule diciamo nervose delle fibre nervose dell'organo all'interno della della coclea del ganglio spirale del corti si chiama così ganglio spirale del corti noi possiamo stimolare queste terminazioni acustiche però perché se è di entità adeguata durata intensità adeguata e queste cellule nervose saranno in grado di rispondere allo stimolo con una sensazione uditiva in questo caso però lo stimolo elettrico delle fibre non sarà prodotto dalle cellule ciliate interne attraverso una sinapsi ma sarà brutalmente uno stimolo elettrico mandato da noi brutalmente fino a un certo punto perché poi sono stimoli molto calibrati molto di bassissima intensità ma provocano sensazioni uditive l'impianto cocleare noi abbiamo visto il terminale l'elettrodo messo all'interno della coclea si chiama impianto cocleare perché viene messo all'interno della coclea proprio per stare vicino alle terminazioni del nervo quindi non è un impianto di cellule o di chissà che cosa un impianto di un dispositivo e è connesso naturalmente ad una parte elettronica ad un microchip che è impiantato anch'esso sotto lo scalpo e poi c'è una parte esterna dove avviene l'elaborazione dove ci sarà il solito microfono un po' come in un apparecchio acustico dove c'è una parte di elaborazione una pila che fornisce energia elettrica è tutto uguale all'apparecchio acustico ciò che cambia che non avremo un altoparlante miniaturizzato ma avremo questa antenna che manda i segnali alla parte interna e questa condurrà gli stimoli alla parte terminale a quel multi elettrodo che abbiamo visto prima quindi l'impianto cocleare come funziona e funziona che gli stimoli raggiungono il microfono il segnale elettrico va nel multi elettrodo e il multi elettrodo stimolerà la il nervo cocleare sostituendo la coclea se voi ci pensate questo è una sostituzione della coclea è un orecchio artificiale è un orecchio bionico perché noi abbiamo sostituito con questo sistema proprio un organo di senso nel suo complesso questo apparecchiatura è vicariante rispetto alla coclea va a stimolare direttamente il nervo acustico facendo il lavoro della coclea quindi è il primo organo di senso artificiale elaborato dall'uomo non c'è ancora nella retina artificiale nell'organo di tatto artificiale c'è l'orecchio artificiale l'orecchio biomico e che si chiama impianto cocleare ed è una realtà clinica ormai da più di 20 anni l'impianto cocleare qui vedete per esempio uno dei nostri dei bambini che seguiamo e vedete ha un impianto cocleare qui vedete questa antennina che trasporta che stimola la parte interna che non vedremo mai perché sotto lo scalpo e dall'altra parte questo bambino però indossa un apparecchio acustico perché dall'altra parte la sordità era appena meno severa quindi poteva ancora essere sfruttata un apparecchio acustico potente bene impianto cocleare su un'orecchia e protesi acustica sull'altra cooperano in questo caso noi parliamo per esempio di stimolazione bimodale che sono due modalità modalità elettrica e modalità acustica qui ci sarebbe un breve filmato per far vedere qui siamo nell'orecchio medio questa è la finestra rotonda questa è la staffa la parte cruciale no il cuore di un intervento di impianto cocleare con intervento delicato ma tutto sommato molto molto semplice molto ben codificato richiede pochissimo tempo si prepara questa che è la finestra vedete questo è il multi elettrodo e il multi elettrodo viene delicatamente inserito con dei micro strumenti nella nella coclea attraverso l'incisione di quella piccola finestra che avete visto questi che vedete qui sono queste bande riflettenti sono i singoli elettrodi di questo multi elettrodo che stiamo inserendo all'interno della coclea eh l'impianto cocleare eh è un dispositivo sia per adulti che per bambini per i rari casi di sordità profonda o di neuropatia uditiva quindi abbiamo detto che non è un dispositivo eh così comune eh si si giunge si arriva all'impianto cocleare attraverso un processo di selezione molto accurato molto complesso molte volte noi abbiamo una casistica veramente consistente di impianti cocleari acquisiti in oltre in oltre quindici anni di attività eh l'ospedale di Piacenza vedete come ci sia una grande una grande fetta 60% coinvolga la popolazione adulta ma vedete la popolazione pediatrica eh rappresenta nel suo complesso il 40% con un numero di rilevante di casi addirittura sotto l'anno e questo discorso di sotto l'anno mi aiuta ad introdurre un altro concetto molto importante ossia l'importanza della diagnosi precoce nel bambino quindi a questo punto parliamo di una sordità presente alla nascita oppure di una sordità che insorga molto precocemente dopo la nascita ma di una sordità importante di una sordità profonda eh o di una neuropatia grave quindi stiamo parlando di casi molto rari e di alcuni di questi casi sono proprio casi sindromici molto rari anche in alcuni casi di patologie mitocondriali eh è importante la diagnosi precoce per quali ragioni perché voi capite bene che se si lascia un bambino con sordità alla nascita a se stesso con un ritardo nella gestione di questa severa menomazione sensoriale bene il bambino avrà delle ripercussioni linguistiche molto importanti se non si fa nulla penso che immaginate che cosa comporta tutto ciò in po comporta il cosiddetto sordomutismo cioè il bambino che l'adulto quindi che non è mai riuscito a comprendere a sentire quindi a comprendere la parola parlata e che quindi che non non è abile a parlare e che quindi utilizza il linguaggio dei segni dei gesti eh una situazione che oggi oggi è stata completamente sovvertita dall'introduzione dell'impianto cocleare così come di tante altre modalità di gestione delle sordità meno gravi eh ma soprattutto è stata rivoluzionata dall'introduzione degli screening neonatali perché vedete è molto diverso eh agire prima dei sei mesi rispetto a dopo i sei mesi quindi stiamo parlando di bambini che vengono comunque trattati però vedete che differenza fa quando si ha una sordità profonda su fra l'agire nel primo semestre di vita agire significa inquadrare il problema e fare i primi passi riabilitativi ecco quindi non stiamo parlando di agire chirurgicamente ma di identificare il problema e provvedere con tutto il piano delle azioni cliniche che si fanno in questi casi vedete per esempio in caso di sordità profonda se si interviene se la diagnosi è fatta dopo i sei mesi e abbiamo una una un quoziente linguistico totale a distanza di anni che non supera il sessanta sessantacinque per cento quindi c'è un gap una una differenza fra quelli in cui si è agito nel primo semestre e quelli in cui si è agito dopo il primo semestre che rimarrà per il resto della vita quindi è cruciale è veramente cruciale identificare precocemente i severi deficit uditivi del bambino ecco fortunatamente ci viene in aiuto lo screening uditivo lo screening neonatale universale che cos'è ben io penso che tutti voi abbiate avuto esperienza per via di di qualche parente di qualche nipotino fratellino eccetera oggi negli ospedali in tutta l'italia vengono eseguiti di screening con le emissioni autoacustiche una cosa molto semplice un po come prendere la la temperatura all'ingresso dei supermercati no ecco si appoggia una piccola sonda nell'orecchio neonato e in pochissimi secondi c'è un risponso pass o fail quindi verde o rosso luce verde o luce rossa perché se l'orecchio è del tutto normale l'orecchio in risposta ad alcuni stimoli che vengono inviati da questo dispositivo emette delle emissioni cioè degli echi cocleari che denotano che c'è un buon stato di salute dell'orecchio interno se invece questa situazione non va bene cioè c'è un fail c'è un risultato negativo allora il bambino viene immediatamente avviato a delle procedure diagnostiche di secondo livello poi vedremo che cosa comporta quindi viene identificato precocemente oggi come oggi il 95 più del 95 per cento della popolazione io vi posso dire dell'Emilia Romagna ma mi risulta che il livello sia abbastanza sovrapponibile in buona parte delle regioni italiane oltre il 95 per cento dei neonati viene sottoposto a screening neonatal universale questo ci consente di passare ad una protesizzazione acustica precoce possibilmente entro il terzo mese di vita e quindi di fare poi un periodo di osservazione per cui nei casi nei casi in cui è necessario si possa fare l'impianto cocleare se necessario anche fra il sesto e il dodicesimo mese di vita per esempio e poi è importante il follow up cioè i controlli successivi ecco questo è lo scenario nuovo che ha davvero rivoluzionato la prognosi delle gravi sordità indipendentemente dalla causa della cause genetiche mitocondriali almeno nelle forme presenti alla nascita o identificate precocemente dopo la nascita come si facciano poi le diagnosi nei bambini voi sapete che uno degli esami cardine è costituito dalla cosiddetta abr che vedete qui un esempio di un abr per cui si invia i segnali ad alta intensità si vedono queste onde abbastanza caratteristiche man mano che si scende che si scende tendono a scomparire quando scomparire il tutto noi siamo a livello della soglia è un esame oggettivo che non richiede che il bambino alzi la mano per cui estremamente affidabile ed eseguibile in bambini più piccoli quando i bambini sono invece più grandicelli quando cominciano ad avere già sei mesi si possono utilizzare tante altre tecniche comportamentali che di solito confermano le tecniche invece oggettive che sono queste per esempio come quella rappresentata dall'abr ma come sono quali sono queste queste sordità beh le sordità ci soffermiamo naturalmente su quelle prelinguali vedete prelinguali significa esordite prima che sia diciamo che si strutturi il linguaggio quindi parliamo soprattutto delle forme congenite o che insorgono nei primi mesi di vita vedete sono molto rare una su 500 significa diciamo sì 0,5 per mille l'ottanta per cento di queste forme ecco la cosa importante sono genetiche mentre solo il 20 per cento sono acquisite o ambientali ecco queste acquisite ambientali ci sono diverse cause un tempo si parlava a lungo delle del ricovero nelle terapie intensive neonatali della dell'asfissia della sepsi sono tutte cose vere ma in realtà le due più importanti sono le forme post meningiti che un bambino che prende una meningita da tre mesi di vita ce ne sono ma in me sviluppa può sviluppare facilmente una complicanza labirintica con perdita dell'udito completa ma quella più diciamo insidiosa più forse più comune rappresentata da questo benedetto virus quindi a proposito di virus ormai siamo siamo così abbiamo tutti la sindrome da paura di questi virus il citomegalovirus congenito e il citomegalovirus congenito diciamo è relativamente comune tanto che in molti ospedali viene incluso tra gli screening della madre e del neonato il 10 per cento dei casi portatori di citomegalovirus sono sintomatici sintomatici ahimè è un virus che ha una spiccata simpatia per i tessuti nervosi per cui ci sono delle lesioni cerebrali anche importanti che possono condizionare un danno cerebrale con con sequele rilevanti bene ahimè la metà di questi casi hanno anche un'ipoacusia ma la cosa più insidiosa sono il 90 per cento degli asintomatici perché perché nel corso dei mesi successivi questi bambini possono sviluppare ipoacusia che è un'ipoacusia progressiva per cui se non sorvegliamo adeguatamente tutti i bambini che hanno una positività al citomegalovirus ci potremmo trovare con un bambino di 9 mesi 12 mesi che prima andava bene che comincia a sviluppare una sortità può anche essere importante detto questo le forme genetiche rappresentano comunque la fanno da padrone sono in genere non sindromiche ma una piccola quota significativa quindi siamo in ambito di patologie rare è costituita le forme sindromiche quindi vediamo qui le non sindromiche quelle più comuni le non sindromiche si possono trasmettere con meccanismo autosomico dominante cioè praticamente si trasmettono con altissima probabilità da una generazione all'altra perché sono geni forti sono geni dominanti quelle recessive invece hanno una trasmissione può comportare il salto di generazione e affinché si manifestino hanno bisogno che si incontrino da parte paterna e da parte materna gli stessi geni ammalati mentre invece nelle forme dominanti basta un solo gene ammalato contratto ricevuto da uno dei due genitori per dare luogo alla malattia sono concetti di trasmissione genetica che penso tutti conosciate molto semplici poi ci sono anche quelli xlinked cioè gli xlinked vale a dire che sono localizzati sul cromosoma x e che quindi diciamo la trasmissione alla prole dipende dal fatto che siano dominanti o recessivi perché se sono dominanti e si si manifestano solo diciamo in alcune situazioni cioè se sono trasmesse ad un una mamma ad esempio trasmette ad un al proprio figlio un cromosoma un genere recessivo il patrimonio il cromosoma x l'assetto cromosomico nei maschi e x y quindi se il maschio riceve il cromosoma x con il portatore di una patologia recessiva bene anche se recessiva la malattia si manifesta le patologie mitocondriali invece come sapete sono le genetiche mitocondriali sono delle delle malattie che comportano la mutazione di un altro tipo di materiale genetico cioè del dna che si trova non nei nuclei delle cellule come succede per queste altre patologie qui o nel cromosoma x ma nel dna che si trova all'interno dei mitocondri che sono questi organelli che sono un po le le centrali elettriche dei metabolismo di tutto l'organismo delle delle strutture attive di tutto l'organismo qui c'è ci sono alcuni esempi di sordità non sindromiche che cosa significa non sindromiche ecco significa che sono sordità isolate cioè chi ne affetto è sordo e basta cioè non ha anche malattie del cuore dei reni del peccato eccetera mentre quelle sindromiche sono delle delle patologie in cui la sordità si associa con altre patologie in pattern caratteristici che distinguono proprio una certa sindrome e nel caso delle sordità autosomiche dominanti sono stati isolati oltre 30 geni oltre 30 geni questi ggb2 per esempio è il gene forse più comune in italia giusto per darvi un'idea il ggb2 è quello che riscontriamo quasi la metà dei bambini a cui facciamo l'impianto cocleare ecco quelle recessive invece i geni sono ancora di più e sono circa 70 vedete c'è un elenco infinito di situazioni vedete che tra le altre cose le sordità non sindromiche recessive possono esordire a livello in età prelinguale quindi bambini diciamo presenti alla nascita o comunque nei primi mesi di vita ma possono anche essere postlinguali cioè possono anche comparire in un bambino che va già a scuola elementare per esempio possono manifestarsi e ce ne sono alcuni esempi ce ne sono non sono neanche pochissime ecco ci sono alcune mutazioni che si manifestano durante la scuola elementare o bambini più grandi o addirittura in età adulta poi ci sono le x link che vedete anche qui per esempio in questi casi si si possono si presentano quasi tutti c'è quasi tutti in molti casi post linguali quindi soggetti molto avanti anche negli anni e poi ci sono le non sindromiche mitocondriali ecco le non sindromiche mitocondriali ci sono diciamo queste sono le sigle mt rnr 1 eccetera sono sigle dei geni principalmente modificati questa è un'immagine del classico genoma mitocondriale e questo per esempio coinfatizzato qui è particolarmente interessante perché è un gene è la mutazione di una di una molecola che viene sostituita da un'altra molecola in un punto preciso della sequenza del genoma che determina una sensibilità agli amminoglicosidi gli amminoglicosidi sono degli antibiotici per la verità non non di utilizzo molto comune nelle nelle patologie diciamo banali e però sono ancora molto diffusi bene la presenza di questo di questa mutazione fa sì che il soggetto a cui sia somministrato un antibiotico amminoglicoside sviluppi una sordità possa sviluppare con altissima probabilità una sordità che può essere estremamente variabile può anche essere una sordità totale quindi fare piazza pulita delle cellule ciliate come nelle immagini che abbiamo visto prima basta una singola dose gli amminoglicosidici sono ototossici di per loro natura ma sono ototossici in tutti gli individui con un meccanismo dose dipendente cioè se io a causa di una patologia tubercolare faccio tre mesi di terapia con amminoglicosidici che ho un'altissima probabilità di avere un danno ototossico da amminoglicosidi ma è dose dipendente cioè dipende da che dosi ho fatto per quanto tempo eccetera 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 mentre invece la mutazione di questo gene fa sì che anche una singola dose possa determinare un danno totale gravissimo ed è una sordità davvero molto particolare in cui per fortuna riusciamo a mettere a fuoco alcuni casi e qui per esempio l'assoluta astensione dall'utilizzo di amminoglicosidi è chiaro che rappresenta un meccanismo di prevenzione della sordità il problema è che non sono esami di screening non ci sono esami di screening per cui bisogna avere un elevato grado di sospetto una volta che si sia venuti a conoscenza di un meccanismo in una certa famiglia di mettere in allerta sulla possibile trasmissione di questo e quindi attuare le procedure diagnostiche successivamente voi sapete tra l'altro che le sordità mitocondriali essendo trattandosi di DNA risiedente nel mitocondrio è una struttura delle cellule del del citoplasma delle cellule ecco essendo una una struttura del citoplasma della cellula si trasmette non con i meccanismi tradizionali cromosomici eccetera ma con il citoplasma della cellula uovo quindi sono solo le mamme che possono trasmettere ai ai discendenti una anomalia una mutazione poi ci sono le sordità sindromiche sordità sindromiche come abbiamo detto sono vari cluster varie associazioni di sintomi insieme alla sordità e vedete qui alcune delle più comuni sindromi autosomiche dominanti che oggi conosciamo sono per esempio la sindrome di Vandenberg io non non abbiamo né non è non è neanche lo scopo di questa chiacchierata che da entrare nei dettagli però immagino che abbiate sentito per esempio qualche volta sindrome di Vandenberg un ciuffetto bianco di capelli liride di colore diversi da un da un occhio all'altro l'epicanto altre anomalie pigmentari ecco questo c'è una sordità importante che si mette con meccanismo auto ed è la più comune fra le forme dominanti ecco il le le recessive invece le più comuni e sono la sindrome di usher sindrome di usher qui ci sono i geni coinvolti in queste in questa sindrome tipo 1 2 3 usher è importante perché è una sindrome che dà luogo a sordità e cecità quindi ha un impatto sulla qualità di vita dei soggetti che ne sono portatori davvero molto molto grave e la pen red la gerberlange nielsen ecco per esempio questa è una delle delle patologie che temiamo di più perché sono oltre la sordità profonda c'è questo allungamento dell'intervallo qt all'elettrocardiogramma per cui sono bambini che possono andare incontro a morte improvvisa spesso noi li vediamo che sono hanno già una certa età non è mai stato diagnosticato e poi c'è tutto il problema con le con gli anestesisti di gestire adeguatamente l'intervento quando devono essere sottoposti a impianto cocleare devono mettere un uno stimolatore di sicurezza per affrontare l'intervento e così via ma non entriamo nei dettagli questo deficit di biotinidasi invece è una è una forma sindromica interessante conviene spendere due parole perché è una deriva dal dal da un difetto da un difetto metabolico che può essere può essere in qualche maniera compensato vedete se si fa una compensazione quotidiana di biotina e si possono rallentare un po i sintomi cutanei quanto meno i sintomi cutanei e neurologici di questa patologia sfortunatamente i problemi visivi e uditivi invece non sono adeguatamente controllati dalla supplementazione quindi dalla integrazione di questa sostanza di cui il soggilma il paziente è deficitario a causa di questa mutazione ci sono poi le xlinked a trasmissione diciamo etero cromosome quindi forme sindromiche xlinked e ci sono le forme sindromiche mitocondriali qui sono all'ultima parte quindi vi chiedo ancora cinque minuti di pazienza temo di avere sforato un pochino il tempo ma giusto cinque minuti anche per per dovere così di 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 ospitalità no per ottemperare a dei doveri visto che ci ospita la mitocon che è un'associazione che raccoglie pazienti con patologie mitocondriali ecco le sordità sindromiche a trasmissione mitocondriali sono estremamente rare ce ne sono molte ma fra le pur nella rarità fra quelle che talora capita di osservare ci sono queste tre mit melas e merf la mi è una l'acronimo di vedete di materno di neurodiabetes mellitus and deafness cioè praticamente diabete trasmesso dalla madre quindi diabete a trasmissione materna con sordità fino al 2 3 per cento di tutti i casi di pazienti diabetici può avere questa può avere questa mutazione questa patologia esordisce prima la sordità di solito all'inizio l'adulta e poi il diabete diabete può essere tipo 1 tipo 2 quindi insulino dipendente o da gestire con antidiabetici per via orale la sordità è progressiva nell'occhio non c'è la retinite diabetica classica ma c'è una specifica distrofia masculare maculare reticolare che però è asintomatica fortunatamente il gene mutato più comune questo che vedete elencato qui e nel corso della malattia nel corso della vita però ahimè possono svilupparsi anche tutte quelle altre patologie che di solito diciamo accomunano molte patologie del genoma mitocondriale come mialgie cardiomiopatie nefropatie sintomi neuropsidici perché queste patologie mitocondriali accomunano spesso questo corteo di interessamento di organi perché abbiamo detto il mitocondrio è la centrale elettrica delle cellule cioè tutti i processi vitali di una cellula dipendono da un'adeguata produzione di energia di ATP fra gli altri da parte dei mitocondri e se i mitocondri hanno una disfunzione le cellule che hanno un meccanismo più attivo più vivace più al nel corpo e subiscono delle 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 ripercussioni ecco perché c'è sempre il cuore c'è il il rene c'è la 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 funzione cerebrale che sono praticamente inarrestabili funzionano sempre 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 hanno continuamente bisogno di energia e fra queste cose c'è l'occhio e c'è l'orecchio interno ecco perché l'orecchio è spesso coinvolto in questi quadri sindromici qui è stata proposta la supplementazione con coenzima q per sostenere la funzione mitocondriale però i dati clinici sono tutto sommato modesti quindi non ci sono ragioni per poter dire che queste forme possono essere trattate o comunque aiutate con supplementazione farmacologica in questo caso dicoenzima un altro quadro molto conosciuto molto grave è la sindrome melas che sta per incevallopatia mitocondriale acidosi lattica ed episodi tipo ictus nota come melas sindrome melas colpisce l'età più giovane esordisce molto più precocemente più grave ci sono degli episodi simili all'ictus anche se facendo le risonanze le aree cerebrali coinvolte sono differenti dalla classica distribuzione vascolare no ecco quindi sono delle dei territori non usuali rispetto a quanto uno ci si aspetterebbe nell'ipotesi della trombosi di un'arteria cerebrale particolare che sono in genere abbastanza canoniche no sono descritte in quadri abbastanza canonici c'è un'encefalopatia con epilessia che ci si può sviluppare nel corso degli anni anche una forma di degrado cognitivo fino alla demenza una miopatia ingravescente e una debolezza muscolare con intolleranza all'esercizio fisico e la biopsia muscolare poi lo vedremo da è abbastanza caratteristica perché fa vedere queste questo reperto delle classiche fibre rosse sfilacciate perché i mitocondri si dispongono diciamo a coroncina intorno alle fibre facendole sfilacciare ci può essere l'acidosi lattica come complicanza metabolica un normale sviluppo il psicomotore iniziale ma poi con l'evoluzione ulteriore ci sono delle sequele gravi l'emicrania e vomito ricorrenti ecco la sordità in alcuni casi con disturbi di apprendimento la neuropatia periferica e bassa statura la diagnosi ecco la biopsia muscolare che fa vedere le fibre sfilacciate come vediamo qui con i segni classici e naturalmente la diagnosi di certezza bisogna farla sul sangue sui globuli sui globuli bianchi sui leucociti e per evidenziare nel diciamo nelle sequenze del dna mitocondriale queste mutazioni che per esempio coinvolgono il genere in gene mttl1 ed è la sostituzione di una singola molecola di un singolo nucleotide in questa posizione 3243 questo nell'ottanta per cento dei casi in altri casi invece la mutazione coinvolge questo quest'altro nucleotide nella posizione 3271 quindi vedete questa un singolo nucleotide una singola tassellino di una molecola di dna le sequele che determina in un paziente l'ultimo quadro sebbene raramente capita di averne menzione di averne descrizione la merf che la l'epilessia mioclonica con le fibre rosse sfilacciate rangrizzite è un quadro che questo dal difetto mitocondriale estremamente rara uno ogni 400 mila abitanti diversi gradi di espressività a causa dell'eteroplasmia l'eteroplasmia è un concetto praticamente abbastanza connesso con la ereditarietà mitocondriale nel quanto le il dna mitocondriale non è tutto uguale non è una una fotocopia uno dell'altro nell'altro nell'altro ma il corso della vita si sviluppano varie copie che differiscono e quindi se c'è una mutazione e se questa mutazione è presente in grande percentuale all'interno di queste copie tutte che possono essere una diversa dall'altra se quella mutata prevale rispetto all'altra allora ecco che si innesca la malattia ma si innesca a seconda proprio della 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 costituzione di queste varie copie si può innescare in maniera più o meno completa quindi questi quadri clinici hanno sempre difficilmente ce ne sono due identici ecco può comprendere la sordità ecco il nostro punto visione dottuna diminuita a causa delle delle ripercussioni sull'occhio bassa statura sintomi neurologici la debolezza muscolare perché il muscolo è sempre una delle vittime di queste patologie le sia neoclonica progressiva e le fibre ragrinzite e raramente la demenza eccetera ecco io non voglio però più annoiarvi con queste cose e mi auguro che fase di domande discussione ci sia la possibilità di approfondire qualcosa grazie a tutti